Siamo con Lorenzo Grottoli che esordisce questa sera in Superlega, se non mi sbaglio ma è proprio così a giudicare i tuoi compagni che ti stanno guardando qua da fuori, che emozione è questa stasera Lorenzo? È così, è un'emozione grandissima poi coronata dal 3-0 quindi è una serata perfetta veramente. Abbiamo visto una grande reazione di tutti voi, era una partita difficile perché consentiva alla Concert di andare a giocarsi tutto per tutto, è un'ultima partita a Piacenza, è stata una bella reazione all'inizio del finale di secondo sette, poi è stata una cavalcata vincente. Permane questa voglia di lavorare così tanto in allenamento tu che spesso sei chiamato a dare il tuo impegno in allenamento? L'abbiamo preparata bene anche se avevamo solo un giorno, è giocata bene e quindi andiamo con Piacenza con la stessa voglia di vincere e di entrare tra le prime quattro. Ormai Raffa ti stava per dare la palla per chiudere, ti sei reso conto qual è stata la tua emozione in quel momento? Assolutamente, dopo il tocco positivo sono partito subito, non ho fatto punto però va bene così. Questa sera farai fatica a dormire ma sono quelle emozioni che veramente nell'appalavolo vogliono dire tanto, complimenti a te e a tutta la squadra. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie mille, ciao.